Ciao a tutte! Oggi vi faccio vedere come pulisco il bagno e che prodotti uso. Iniziamo subito. Eccoci qui. Allora, i prodotti che io uso sono Ace Bagno Brillante, Vici Net Gel, Spic e Span, L'Ancol, le tavolette WC e poi c'è questo prodotto che ho comprato ultimamente su Amazon che lo uso per i rubinetti. Ora incominciamo a lavare. Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!